Il signor Domenico Carvelli ha festeggiato i venerabili cento. Nella biblioteca comunale di Petiglia Policastro, la famiglia e l'amministrazione comunale hanno regalato questo bel momento al centenario in presenza di figli, nipoti, pronipoti e tanti amici. Buongiorno a tutti della nostra materia! Tanti auguri! Buongiorno a tutti! 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 Buongiorno a tutti!